40 alloggi case MAP assegnati senza bando dal Comune dell'Aquila ad altrettante associazioni culturali. La denuncia arriva dai consiglieri comunali di opposizione, Giustino Masciocco, Stefano Palumbo, Paolo Romano. Sono lontani i tempi in cui gli attuali amministratori comunali aizzavano i residenti del progetto case contro la loro amministrazione, scrivono in una nota. Dal loro insediamento però nulla è cambiato, tantomeno la considerazione che sempre hanno voluto di questo patrimonio, ovvero uno strumento da usare per costruire consenso elettorale, prima a capo delle rivolte e oggi per assecondare le esigenze di spazi da parte delle associazioni, in cambio di uno spiccato sostegno elettorali. Questo viene da pensare, continua la nota, leggendo la delibera numero 509 del 27 dicembre 2018, attraverso la quale si demanda al settore bilancio l'istruttore delle richieste pervenute e l'assegnazione di circa 40 alloggi, case e MAP ad altrettante associazioni, senza nessun bando. Tra le richieste pervenute al comune, evidentemente tramite passaparola e mancanza di una procedura di evidenza pubblica, attaccano i tre, non possono notarsi i nomi di consiglieri comunali in carica e collaboratori riferibili all'assessore con delega al patrimonio, nonché al vice sindaco, scrivono ancora. Le preferenze inserite per la richiesta di alloggi in qualche caso riguardano il centro storico e i quartieri limitrofi della città, zone dove la mancanza di alloggi provvisori farebbe pensare addirittura a richieste evidentemente accordabili in quelle abitazioni equivalenti entrate nel patrimonio immobiliare dell'ente. Viene da chiedersi e concludono come mai per gli alloggi assegnati ad uso abitativo si è dovuto espletare un bando ad evidenza pubblica per circa 320 alloggi, mentre per le associazioni si procede ad assegnazioni dirette. E per tutte le altre realtà associative che ne avessero bisogno ci sarà da attendere la prossima tornata elettorale? Singolare infine aggiungono come il sindaco strepiti sulla nomina del direttore Ater tramite regolare bando e la cui nomina sarà demandata al futuro governo regionale, quando egli stesso usa metodologie di gran lunga più opache e sottelezioni preoccupanti.